Allora ciao a tutti io sono Mauro Calibani e diciamo sono il fondatore della ditta E9. E9 è un brand italiano che nasce quasi vent'anni fa quando non c'era niente di questo tipo per i climber e tuttora è focalizzato nel core del climbing. Il nostro obiettivo come azienda è quello di proporre un abbigliamento creativo, divertente, sempre diverso perché la creatività è una delle qualità che ci contraddistingue e soprattutto facciamo del made in Italy quindi cerchiamo di mantenere viva quella che è la tradizione dell'assemblaggio dell'abbigliamento in Italia. Cerchiamo di proporre un abbigliamento diverso, coraggioso sia nelle forme che nelle linee. Quest'anno siamo qui a Monaco per la prima volta come espositori e siamo contenti di presentare una colazione di rottura che presenti sia il cotone che dei nuovi materiali tecnici. Quindi proponiamo le nostre linee creative e innovative con anche dei tessuti tecnici che possano ampliare un po' il raggio di utilizzo dei nostri prodotti. Quanto riguarda il discorso tecnico abbiamo inserito le lane per ritornare un po' a un aspetto retro dei capi spalla, dei top, senza mai dimenticare i dettagli e segnalare che comunque i nostri prodotti sono fatti per i climber e sono fatti in Italia. Per ciò che riguarda il discorso tecnico c'è l'inserimento di tessuti tecnici che quindi sono quick dry, si asciugano velocemente, offrono comunque un'elasticità e un touch anche più cotoniero a chi li utilizzerà. Queste sono delle linee nuove tecniche che stiamo facendo con dei tessuti che accoppiano la valenza del calore dei materiali tecnici con un aspetto anche più pulito e tecnico, però con linee sobrie. Abbiamo inserito discorsi tecnici anche nei pantaloni, quindi tessuti che vadano a soddisfare le esigenze di chi arrampica anche a livello di peso specifico con dettagli che abbiamo introdotto già anni fa come il porta spazzolino per chi deve pulire le prese mentre si arrampica per togliere la magnesia dagli appigli e la costruzione diciamo che permetta una mobilità ampia delle gambe durante la fase di arrampicata e su tessuti stretch. Diciamo una delle prerogative di E9 è quella di avere coraggio e il coraggio lo riportiamo all'interno delle forme e dei dettagli come appunto le forme delle tasche, l'inserimento di costine elasticizzate comfort che al contatto con la pelle comunque danno una piacevole sensazione, inserimento di stampe a contrasto che valorizzano le nostre semplici forme e linee. Diciamo che E9 punta ad offrire la parte più coraggiosa a livello stilistico e facendola emergere con dei piccoli dettagli. E9 lavora il cotone con il discorso pronto per tinta vuol dire che noi assembliamo i capi bianchi e poi li tingiamo seguendo delle ricette di colore che cambiamo di volta in volta ottimizzando le tonalità e spalmandoli equilibrandoli rispetto al resto della collezione. Anche nella donna per esempio ci sono molte novità, assemblaggi di tessuti stampati mixati tra di loro, pantaloni tecnici sempre con forme particolare, questi denim colorati oppure felpe che comunque hanno sempre dei dettagli e una particolarità diciamo anche a livello espressivo con l'aggiunta di dettagli o di etichette che comunque sottolineano che E9 è fatta in Italia insomma. E9 è caratterizzato, uno dei nostri slogan è climbing where built with art, cioè noi cerchiamo sempre di proporci in maniera sempre nuova, fresca ma semplice.